Parliamo di scuola. Vi prego di dedicare 5 minuti di attenzione perché questo tema sta diventando il tema fondamentale del dibattito politico di queste ore. E non so come fare a dirlo perché qualcuno potrebbe pensare che sono felice delle discussioni, ma in realtà io sono proprio contento del fatto che finalmente la scuola sia al centro della discussione. Certo, non apprezzo alcuni toni, alcune polemiche, i boicottaggi di chi non vuole far partecipare i ragazzi all'invalsi, probabilmente abbiamo sbagliato anche noi del governo alcuni messaggi di comunicazione, ma l'idea che finalmente in Italia la scuola sia al centro per me è la cosa più importante di tutte. Oggi noi abbiamo avuto finalmente, dopo una dozzina di trimestri, il segno più al PIL, più 0,3%. Ma non servirà a niente tornare a crescere nelle statistiche se non torniamo a crescere nelle scuole. L'Italia non sarà mai la superpotenza demografica, la superpotenza geografica, la superpotenza diplomatica. può essere una superpotenza culturale. E allora dobbiamo recuperare tutto ciò che è cultura, educazione, istruzione, formazione e tentare di scrivere insieme una pagina nuova. Ecco che cos'è la buona scuola. Intendiamoci, la buona scuola c'è già in Italia. È la professoressa che nonostante il controsoffitto o le difficoltà della banda larga insegna ai ragazzi ad allargare il cuore con una poesia. È l'insegnante di musica che fa un'orchestra in una scuola di periferia. È la grande professionalità di chi riesce anche in laboratori scalcinati a far sperimentare ai ragazzi il gusto della ricerca, della curiosità. La buona scuola c'è già in Italia. Sono tante donne, tanti uomini che si impegnano con coraggio, con costanza e con determinazione. Quella che noi proponiamo è una riforma su alcuni punti, anzi non chiamiamo la riforma che non ne possiamo più. Sono alcuni punti concreti, puntuali, specifici di cui vorrei discutere insieme a voi. Perché se dichiariamo innanzitutto a noi stessi, forse riusciamo a capire dove siamo d'accordo, dove non siamo d'accordo, quali sono le cose che ci piacciono, quali sono le cose che non ci piacciono. Primo punto, preso la lavagna apposta. La cosa più urgente, non la cosa più importante. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro anche se la parola è una parola un po' abusata. Dico che è un'urgenza perché noi abbiamo avuto in questi anni un crollo totale degli occupati. Abbiamo avuto un aumento della disoccupazione giovanile che è impressionante. Noi siamo un paese in cui i ragazzi che non trovano lavoro sono oltre il 40%. È un dato che è tra i peggiori d'Europa. L'alternanza scuola-lavoro funziona in Germania, funziona in Svizzera, funziona in Austria, funziona anche in quella parte d'Italia come l'Alto Abige che la può fare in virtù di una previsione costituzionale. Nella buona scuola si prevede finalmente l'alternanza scuola-lavoro per tutti. Obiettivo ridurre quel 44% di disoccupazione giovanile. È l'urgenza numero uno che abbiamo davanti a noi. Secondo punto. La definisco cultura umanista, ma è riduttivo. Nella buona scuola chiediamo di studiare di più alcune materie, per esempio la storia dell'arte, per esempio la musica, per esempio le lingue, tutti noi sappiamo che ce n'è bisogno. Chiediamo a scuola italiana di fare ciò che la scuola italiana ha il dovere di realizzare. Vale a dire finalmente un investimento più forte rispetto al passato, non soltanto sugli skills professionali, sui curricula, ma anche sull'esigenza più grande che ha un istituto scolastico, che non è quella di formare soltanto un lavoratore, è innanzitutto quella di educare un cittadino. Naturalmente su questo si può discutere. Io sono uno di quelli che pensa che ci vorrebbero più ore di latino nella scuola italiana. Nel progetto che abbiamo messo in campo, l'idea di tornare a investire su alcune materie che erano state messe in secondo piano, non è però in contraddizione con tutto l'aspetto più scientifico, più legato alla tecnologia. Qualche giorno fa ho incontrato Fabiola Giannotti, che è la direttrice del CERN, o meglio, che è stata nominata direttrice del CERN la principale, una delle più prestigiose istituzioni di ricerca a livello mondiale e che diventerà tale dal 1 gennaio del 2016, e mi ha raccontato con entusiasmo del suo passato nel liceo classico, lei che oggi è una delle scienziate più importanti al mondo. Perché? Perché la scuola italiana fa anche questo. Però c'è bisogno di restituire respiro, ossigeno, e questo è il secondo dei cinque punti della buona scuola che voglio toccare. Però voi direte, sì, va tutto bene, però il punto chiave che noi abbiamo di fronte a noi è che gli insegnanti sono poco pagati. Terzo punto della buona scuola, più soldi agli insegnanti. È un dato di fatto oggettivo. Io credo che si debba essere sinceri fino in fondo. Oggi gli insegnanti hanno perso una parte dell'autorevolezza sociale che avevano negli altri anni. La mia maestra, Eda, nel mio piccolo paese nel quale sono cresciuto, entrava nel bar, entrava al circolo ed era rispettata da tutti, come il farmacista, come il maresciallo, come il parroco. Perché? Perché quella figura era una figura che aveva un prestigio sociale. Oggi il prestigio sociale è venuto meno. In parte è colpa di noi, nuovi genitori, perché quando mio padre era chiamato da un professore per dire che mi ero comportato male, dava la colpa a me. Invece la mia generazione di genitori spesso dà la colpa all'insegnante. Quindi la prima responsabilità ce l'abbiamo noi, genitori della nuova generazione. Però parliamoci chiaro, c'è anche una parte di responsabilità che deriva dal fatto oggettivo che quando si chiedono ai ragazzi di boicottare le prove in balzi o si minaccia al blocco degli scrutini, non si sta facendo un servizio alla scuola e non si sta facendo un servizio a quei ragazzi. Ecco che è importante riuscire a intervenire dando più soldi agli insegnanti, non perché da questo discenda l'autorevolezza sociale, ma perché è un fatto di giustizia. Per questo i 500 euro per ciascun insegnante, per la formazione, per comprarsi un libro, per un concerto, per investire in cultura, per andare a teatro, sono 500 euro annuali che arrivano a tutti gli insegnanti della scuola pubblica italiana, con questa riforma, perché mettiamo più soldi per la scuola, non meno soldi nonostante le proteste, e dall'altro 200 milioni, che sono 200 milioni che valgono per gli insegnanti sulla valutazione. Questo è un argomento che ha fatto arrabbiare in tanti. Però non è che può valere il principio del nessuno mi può giudicare. Parliamoci chiari. Se tu chiedi ai ragazzi di dare il meglio che questi possono dare, potrai anche accettare un criterio per il quale tu stesso devi essere valutato. Perché il merito nella scuola non è una parolaccia, perché ci sono tantissimi professori che fanno bene il loro lavoro e che sono arrabbiati con i loro colleghi, che talvolta non fanno altrettanto bene il loro lavoro. Poi naturalmente, intendiamoci, si può discutere di come si utilizzano questi 200 milioni, perché questo è un punto molto delicato. Io lo capisco che ci siano opinioni variegate. Qualcuno vorrebbe che fosse il preside, qualcuno dice che diamo troppi poteri al preside a valutare gli insegnanti su questi 200 milioni. Che cosa possiamo fare? Nel testo di oggi c'è un nucleo di valutazione che deciderà, ma il principio di fondo è dare più soldi a chi li merita. Quarto e penultimo punto. Se noi accettiamo questa filosofia, bisogna anche accettare l'idea di fondo che è quella dell'autonomia. È una parola che risale ai tempi della riforma Berlinguer. È una parola un po' abusata. Che vuol dire autonomia? Vuol dire che la scuola di Milano Centro avrà caratteristiche diverse da quella di Mazzara del Vallo e che la scuola di Scampia avrà probabilmente bisogno di cose diverse di quelle di cui ha bisogno la scuola del centro abitato di Trieste. L'autonomia significa levare, togliere, eliminare il potere alle circolari ministeriali che in uno stretto burocratese decidono il futuro dei ragazzi e chiedere alle scuole di aprirsi, di aprirsi al territorio, di aprirsi alle realtà culturali. Ah, ma questo è svendere ai privati. Ma che privati? Ma che privati? Non cambia niente per il Consiglio di istituto. Il Consiglio di istituto è il soggetto che decide il progetto dell'offerta formativa. Il Consiglio di istituto discute dalla linea di come si deve comportare la scuola. Ah, ma questo trasforma i presidi in degli sceriffi. Chiaro che il preside ha delle responsabilità in più, ma non può, non farà mai lo sceriffo. Sarà il responsabile di una comunità, insieme al Consiglio di istituto, al collegio dei docenti, alle famiglie. La scuola non è mia, la scuola non è del governo, la scuola non è dei sindacati, la scuola non è degli addetti ai lavori. La scuola è il luogo nel quale riparte la crescita di un paese. Ecco perché ci vuole l'autonomia e dobbiamo far sì che ciascuno di questi ragazzi ciascuno di questi nostri allievi possa finalmente avere il coraggio e la possibilità di giocarsi le proprie carte, sapendo che non tutti i territori hanno le stesse esigenze e bisogni. Ultimo punto, e qui si va sul delicato. Beh, anche prima eravamo sul delicato, però io la dico così, continuità. Che vuol dire continuità? Vuol dire che noi non possiamo avere un'azione educativa spezzettata tra supplenti, controsupplenti, supplentite varie e dintorni. Ecco perché questo governo sceglie di assumere solo quest'anno più di 100.000 persone che avevano acquisito il diritto ad essere assunte e a cui lo Stato non aveva mantenuto la parola, perché non le aveva assunte. Sono una parte dei precari, i precari sono di più, ma sono quelli delle gradatorie a esaurimento, quelli che hanno vinto un titolo, avendo vinto un concorso, le scuole di specializzazione. Continuità significa che assumendo più persone con il cosiddetto organico funzionale, la scuola italiana funzionerà con una stabilità educativa e non con un meccanismo in cui ogni tre mesi bisogna rincorrere uno spezzone d'orario e si forma una generazione di precari che è frustrata perché anziché avere il fuoco sacro dell'insegnamento è costretta a leggersi tutte le norme, a guardare le gradatorie, a perdere le proprie ore dietro le trafile burocratiche. Questi sono i cinque punti della riforma della scuola. Possono piacere, possono non piacere, ma stiamo discutendo dell'alternanza scuola-lavoro. Ricordatevi la percentuale del 44% di disoccupazione giovanile. La cultura umanista, noi mettiamo più ore storia dell'arte, più ore musica, più ore lingue, ma facciamo anche un investimento sia sulle materie classiche che sulle innovazioni, la scienza, la matematica. Più soldi agli insegnanti, da un lato i 200 milioni, dall'altro i 500 euro all'anno che diamo a ciascun insegnante della scuola pubblica. L'autonomia come principio fondamentale. Infine la continuità con l'assunzione dei precari. Cos'è che non c'è nella buona scuola? Non si parla, no, nel modo più totale, di ferie per gli studenti. Chiamarle ferie è un po' forte, di giorni di vacanza. Non si parla di vacanza. È uno degli argomenti che più sui miei social network i ragazzi mi hanno detto, tu stai distruggendo i nostri giorni di vacanza. Nel buona scuola non si parla di questo. Non ci sono presidi Rambo. I presidi Rambo esistono soltanto al cinema, se ci sono al cinema. E attenzione, questo è molto importante, non è vero che il preside assume l'amico dell'amico. Non è vero che ci sono i licenziamenti dopo 36 mesi. Sono assolute falsità. No licenziamenti dopo 36 mesi. Cos'è che c'è invece e che io non ho citato e mi scuso per non averlo fatto perché sono alcuni argomenti che sarebbe interessante, ma altrimenti la facciamo troppo lunga e ho promesso di restare non troppo nel merito per gli addetti ai lavori. Per la prima volta si parla di regolare una legge sugli asili nido e sulle scuole materne, la cosiddetta 06 sta nella legge delega. Si parla di diritto allo studio per i ragazzi che non ce la fanno. La scuola è o dovrebbe essere il luogo nel quale le diseguaglianze vengono cancellate in partenza. Tutti devono essere messi nella stessa punto di partenza. Poi, per carità di Dio, chi è più bravo andrà più veloce, chi è meno bravo sarà aiutato, ma il punto di partenza deve essere uguale per tutti. Questo è il motivo per cui il diritto allo studio è una delle questioni fondamentali della nostra riforma. La scuola digitale, che non è semplicemente le lavagne interattive, le lavagne multimediali. La scuola digitale è la banda larga, è la capacità di pensare multitasking, è però contemporaneamente la voglia di emozionarsi di fronte alla realtà, non soltanto alla realtà virtuale. E il tutto si conclude con l'atto che sto per firmare, che firmerò oggi pomeriggio, la circolare ai ministri, al ministro dell'economia, al ministro dell'edilizia scolastica, vale a dire al ministro dell'infrastruttura, al ministro della scuola, che porta oltre 4 miliardi di euro di nuovi investimenti sull'edilizia scolastica in Italia. Allora, va tutto 4 miliardi non soltanto di nuove scuole, ma di edilizia scolastica in quanto tale. Io vi domando e mi domando, possiamo discutere serenamente di questa riforma della scuola? Non può essere la riforma del prendere o lasciare, perché la scuola non appartiene a nessuno, neanche al governo, o meglio appartiene a tutti, cioè alla nostra comunità. Però possiamo anche avere finalmente il coraggio di dire che se facciamo questo lavoro sulla scuola, poi si cambieranno le cose che devono essere cambiate. Ma se ridiamo importanza e centralità alla scuola, forse l'Italia torna a crescere. Io non mi accontento del PIL che fa più 0,3. Io voglio che l'Italia torni a dare alla scuola il ruolo che merita, cioè la centralità nel futuro, perché chi va a scuola, chi ha nel cuore le ansie, le esigenze, i sogni dei propri figli, sa perfettamente che la scuola non è una delle tante questioni su cui si possono fare battaglie politiche. La scuola è il luogo dove o si cambia un paese o si resta costretti nella palude e nel chiacchiericcio di tutti i giorni. Io vi chiedo, discutiamone, parliamone, ma facciamole sulle cose concrete, non sugli slogan ideologici. Grazie. Grazie. Grazie.